Le immagini che vedete non sono state girate all'interno di qualche casolare faticente ed abbandonato da anni, ma l'esatto opposto dall'interno di una struttura che dovrebbe garantire livelli di sicurezza sanitari e strutturali almeno a norma di legge. Stiamo parlando dell'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa dove invece piove dentro. L'acqua si vede bene dalle immagini ammatoriali, cade dal soffitto in modo abbastanza copioso per accumularsi a terra dopo aver allagato tutta la rampa di scale. Un ospedale ancora fruibile al pubblico e sede di reparti sensibili ridotto già al primo acquazzone di settembre in questo stato. Il video ha già fatto il giro sui social creando le inevitabili critiche del caso se a questo si aggiungono anche le infiltrazioni che già lo scorso anno si erano registrate anche all'interno del nuovo ospedale Giovanni Paolo II, sempre a Ragusa. Sulla questione ancora nessun intervento ufficiale si è registrato invece da parte dell'ASP7 di Ragusa. Sembra infatti che quanto accaduto e documentato sia nuovo anche al direttore generale Angelo Alicuo che proprio ieri, sempre sulla propria pagina Facebook, ha esortato chiunque a farsi portavoce dei problemi ma anche ad agire per il bene di tutti. Insomma, oltre che filmare il disservizio tra l'altro di cui si è appreso solamente dopo la pioggia, sarebbe stato giusto chiudere la porta della zona allagata in modo da prevenire ulteriori e forse più gravi problemi. Se vedete che c'è un problema scritto su Facebook, un evento per cui potete far qualcosa come una persona in difficoltà, un animale in pericolo o più semplicemente una porta aperta dalla quale entra acqua, invece di filmare e gridare allo scandalo sui social, quella porta andrebbe chiusa.